Vi ascoltate Abracem, dirige l'orchestra e maestro Tonino Esposito, canta Mario Merola. Siamo spopolando la popolazione pulpe e pulpesse che stanno mesi e scogli del vano occidentale del porto di Procida. Noi fraticelli ortolani e palombari ci immergiamo nelle acque addomesticate dalla doccia e risacca della Maria Argentata. Sì, il cramofono subito l'ho inventato tu, ma forse già ci sei prima, tu però hai creato la versione del Phonix che non annascamente agisce sulle papille cerebrali di Mitri, Zanzaro e Pulpe. Ma che grancho è freddo, non ce la fai. E che mazza che comunque tiene freddo. Aspetta un momento. Sì, ma io li addormento e Pulpe non esco altro che Bomba. Le bombe mi faccio io. O Pulpe, sai se piglio, rinca la nasse, solisse, e la bocca della tromba d'acqua subacqua, che ho inventato io. Se lo succhia nel ventre del gramofono, roce roce, come a poco gusto. Quando Pulpe si è fatto freddo in cucina, strunze, che erano ancora viventi in bacinello. La coppa fonesse veniva a farlo direttamente in coppa di scogli, una volta al tuo pescatore si trovava in capo. Mi diceva, come è buono questo muscardiello? Grazie, non freddo. Grazie, ucazze. Grazie.